ciao a tutti e benvenuti al mio canale quanti di voi hanno la necessità di aprire file in pdf ormai questo formato pdf è uno dei formati più utilizzati assieme al jpeg praticamente quasi tutti utilizzeranno sicuramente l'applicazione di default che si può avere su un file pdf quindi il classico lettore pdf adobe reader o acrobat reader quindi come lettore pdf ovviamente io consiglio sempre di continuare a utilizzare il famosissimo e soprattutto gratuito adobe reader perché è veramente veramente ottimo però l'utente finale ha molte volte le esigenze qua entra in gioco anche la difficoltà di modificare quindi editare si dice in gergo i pdf quindi andare proprio a modificare un pdf il formato ovviamente essendo differente dai jpeg quindi quelli utilizzati per intenderci nelle immagini ovviamente sono molto più semplici questi ultimi di andare a modificare perché esisteranno in mercato nel web in maniera gratuita talmente tante applicazioni anche nei windows già sono inseriti vedi il paint vedi l'apertura delle fotografie delle immagini che offre il nostro windows quindi dal 10 l'8 l'11 hanno ormai tutte le utilità per modificare un jpeg quindi ritagliarlo poi un pezzo scrivere di sopra la cosa più complicata invece farlo in un file pdf perché è come se fosse un jpeg però plastificato in modo che non lo possiamo andare a toccare nessuna maniera e diciamo che io lo trovo effettivamente come estensione di file davvero bello perché comunque aprendo magari un formato word un joypeg è semplice insomma anche il word stesso per esempio faccio finta che abbiamo un curriculum sia in jpeg e sia scusate in word che in pdf 20 appena per un word è semplicissimo andare a cancellare qualche dato modificare appunto perché il world è una video scrittura quindi permette tutto ciò in un pdf impossibile quindi è bellissimo andare a sfogliare tante pagine avendo la certezza al cento per cento e comunque non viene toccata all'interno anche se poggiamo il mouse di sopra o con la tastiera andiamo a pigiare perché proprio il pdf fate finta che ho un formato word plastificato non potete più andare a modificare niente però abbiamo detto che ci sono tante persone che hanno l'esigenza andare a editare questo programma il programma dove sorge che molte volte utilizzando i programmi che modifiano pdf online o bisogna registrarsi o mettono il classico logo quando finiamo di editare un pdf quindi di modificarlo oppure non permettono di modificare pdf se superano i 50k di pesantezza quindi abbiamo tutte queste limitazioni allora cosa possiamo fare senza sbattimenti vari quindi senza andare cercando programmini non programmini a pagamento perché ricordiamo come lettore perfetta dobbere ridere però se vogliamo modificare con adobe ridere dobbiamo andare alla versione di acrobat a pagamento ed è molto caro è vero che è ottima perché permette di fare tutto su un pdf quindi non solo diciamo editare il file modificato ma permette di fare unione e divisione di pdf in vari formati quindi è veramente ottimo però abbiamo detto che fino a quando è possibile andiamo ad utilizzare programmi gratuiti e in aiuto oggi finalmente ne parliamo viene in aiuto il programma libreoffice office oppure libreoffice insomma pronunciatelo pronunciatelo come volete quindi il tempo di cambiare inquadratura e vediamo subito che cosa fa questo programma perfetto quindi andiamo a scaricare il programma sempre aprendo una pagina di internet andiamo a scrivere qua sopra libreoffice invio andiamo a reperire il file su download in questo caso non lo facciamo da fuori perché attenzione qua lo scaricherete casomai per mac os no deve essere per il vostro windows se avete mac invece dovete mettere la versione ovviamente per mac in questo caso dobbiamo andare sulla vocina download quindi scaricate libreoffice il primo perché il sito permette anche di fare altre cose clicchiamo e qui dobbiamo andare a scaricare libreoffice 762 che l'ultima versione ovviamente scegliendo il nostro sistema operativo quindi in questo caso questo computer dove sto lavorando ha un sistema operativo a 64 bit windows e lui già lo rileva però nel caso in cui voi non avete un 64 bit e magari avete o un 32 o un apple andata a mettere la versione da qua quella che più quella non quella che più mi interessa ma quella che sia esatta nel vostro computer in questo caso io lascerò windows 64 bit e cliccherò il giallo download il download qua dice che partirà a breve ed è questo qua sopra quindi aspettiamo che scarichi il download ovviamente il programmino è un free dico ma non è tanto leggero perché comunque pesa quasi 350 mega quindi già di qua si vede quello che permette di fare questo programmino che non sarà soltanto di editare pdf ma farà altre cose però il video proprio oggi è di modificare pdf perché c'è gente che ha molta difficoltà a modificare un pdf ancora il file è giunto al termine voi ve lo troverete casomai nella cartella sul day nel desktop oppure nella cartellina esplora risorse io farò direttamente apri file e partirà l'installazione del programma qua posso chiudere una volta che è partito l'installer perfetto quindi farò l'installazione guidata quindi devo cliccare soltanto avanti lascerò su tipica non toccherò nulla lascerò soltanto la spunta su crea collegamento sul desktop perché mi interessa la seconda va lasciata bianca clicco su installa partirà l'installazione quindi dobbiamo cliccare su sì attenderemo la fine dell'installazione il completamento dell'installazione del programma perfetto ha finito di installare il programma quindi in questo caso clicchiamo su fine allora il file di installazione che abbiamo scaricato è questo quindi una volta che il file installato possiamo anche andarlo a cestinar non servirà più in questo caso il programma che vi ritroverete sul desktop è questo libro office la versione 7.6 allora una volta che apriamo il programma quindi con il doppio clic vi dico l'unico settaggio da andare a fare allora perché serve questo settaggio questo è già importantissimo e non fatemi intimorire dal messaggio che mi può spuntare che ora insomma vedremo insieme vediamo insieme allora il settaggio da fare sul libro office serve proprio per andare ad editare questi pdf è di recarci sulla vocina strumenti in alto quindi questa di qui clicchiamo dentro e andare su opzioni una volta che andiamo a pezioni essi e compare quest'altra finestrella noi dobbiamo andare su avanzate sulla vocina in basso avanzate una volta che clicchiamo su avanzate dobbiamo essere sicuri che sia abilitata questa vocina qua quindi abilita le funzionalità sperimentali potenzialmente instabile non vi preoccupate di questo potenzialmente instabile perché il programma funzionerà bene lo stesso quindi siate sicuri che sia editato questo abilita le funzionalità le funzionalità sperimentali una volta che è fatta clicchiamo sempre prima su applica dopodiché clicchiamo su ok perfetto il programmino è già pronto per lavorare per sicurezza vi chiede notte che abbiamo fatto questa modifica di chiudere il programma e riaprire il programma per sicurezza quindi riavviarlo occhi ora siamo sicuri che le modifiche sono realmente salvate ora noi dobbiamo andare abbiamo scaricato questo programma per andare a modificare un pdf quindi editarlo si dice in termine tecnico in questo caso io qua ho scaricato precedentemente un file pdf che è un semplicissimo calendario del 2023 quindi in questo caso io voglio modificare voglio farvi fare vedere insomma voglio cliccare sulla vocina apri file in questo caso io sul desktop perché il mio file questo di qui è sul desktop quindi io lo vado a prendere l'apertura sul desktop voi se l'avete sul download sui documenti sulle immagini insomma aprite il file pdf dove l'avete voi in questo caso cliccherò sul mio file calendario e cliccherò su apri e lui mi ha già ma caricato le pagine del calendario quindi abbiamo gennaio febbraio marzo e ammettiamo che voglio modificare gennaio quindi allarghiamo il programma così lo vediamo meglio e qua non rimane altro soltanto che andarci a recare sulla parte che dobbiamo andare a modificare quindi per esempio gennaio clicco dentro gennaio e già c'è la barra come se fosse diventato un word il nostro pdf quindi io gennaio lo porto tutto indietro cancellette lo modifico per esempio in febbraio perfetto il primo che domenica rosso io girandoci dentro lo farò diventare per esempio di nuovo lunedì quindi vedete lui come tiene anche il formato preciso quindi vedete non va nemmeno a modificare il formato cioè qua già si va in errore perché abbiamo una lunedì rosso due lunedì lo stesso potrei fare con il giorno quindi andare a modificare il giorno lo farei diventare per esempio un altro 2 e clicco quindi capite bene io quello che posso fare con il programma anche il 2023 posso riportarlo presente al 2019 quindi posso farlo qualsiasi cosa vi ho fatto fare quella modifica nel programma proprio perché per permettervi di risalvare il file di nuovo in formato pdf sennò qual era il problema era che vi dava un formato che è diverso al pdf non abbiamo fatto niente perché se poi dobbiamo andare a cercare un altro programma gratuito che converte i file in pdf da questo formato qui non abbiamo fatto nulla quindi non dobbiamo cercare di utilizzare almeno quando è possibile ovviamente perché non sempre è possibile andare ad utilizzare un programma solo che permette di fare tutto quindi per salvare questo file che devo fare semplicemente andare in alto a sinistra su file clicco e in questo caso andare a fare non più salva ma andare a utilizzare la vocina esporta come esporta nel formato pdf oppure esporta direttamente in pdf quindi clicchiamo su esporta direttamente in pdf un colpo di clic e lo voglio risalvare di nuovo sul mio dextro però in questo caso lo chiamerò calendario 2023 modificato e darò un bel salva già il file è stato salvato posso chiudere il programma in questo caso io mi troverò i due file quello originale calendario 2023 è quello appena modificato quindi andiamo a vedere effettivamente si ha salvato il tutto senza modificare tanti parametri del nostro pdf quindi anche come larghezza lunghezza apriamo il file originale è il file ovviamente originale funzionava con 2023 gennaio è il prima e domenica chiudiamo apriamo l'altro file modificato e vedere che è rimasto tutto perfetto soltanto abbiamo cambiato il primo mese da gennaio passato a febbraio abbiamo due lunedì un martedì con un giorno due un giorno due il 2019 anziché 2023 quindi avete visto come ha modificato questo file in maniera veramente semplice senza andare a cercare tanti programmi in internet o che siano gratuiti però ovviamente per necessità loro intendono a fare iscrivere le persone oppure il file non deve pensare più di 50 mega insomma abbiamo visto come andare a modificare veramente in maniera semplicissima i file pdf questo secondo me sarà veramente un video utile per tutte quelle persone che hanno appunto difficoltà ad editare file in pdf invece così hanno notato con quanta facilità con questo programmino veramente bellissimo fino ad oggi è gratuito sperando che rimanga veramente gratuito e poi comunque andate a studiare questo programma perché fa fare molte molte cose quindi e lo possiamo utilizzare anche con utiliti di word excel e creare vari formati quindi effettivamente potete studiare benissimo altre funzionalità del programma mi interessava soltanto indirizzarvi sul campo modifica pdf spero sempre di essere stato utile e ci aggiorneremo sicuramente al prossimo video ciao a tutti